buongiorno benvenuti alla decima edizione di allenati con noi principesse e unicorni e di show eccoci qua ragazzi io e la mia assistente aurora oggi vi faremo vedere il decimo allenamento direttamente dalla nostra umile dimora ho visto sondaggio ho visto che ha vinto a grandissima sorpresa il tabatone quindi vi ho accontentati ovviamente ci sarà comunque una parte di rinforzo centrale tanto avete un sacco di tempo giusto allora cosa facciamo oggi un warm up facciamo due tabatini nel warm up 4 esercizi per ogni tabata 4 minuti di lavoro a tabata ricordiamo 20 secondi di lavoro 10 secondi di recupero un minuto di recupero tra i due tabata e li facciamo tutti e due come riscaldamento tabata 1 jumping jack skip sul posto ginocchia belle alte air squat e il plank jack dopo vediamo tutto ovviamente ma torniamo noi tabata 2 dicevamo sempre quattro esercizi jumping jack con le gambe frontali una calciata dietro affondi sul posto alternati e un plank commando come lo chiamano nostro francesco parte di rinforzo cosa ci serve per la parte di rinforzo una cassa d'acqua che tutti avrete sicuramente perché abbiamo visto a saltare supermercati e basta nient'altro cosa facciamo otto round per i più carichi di legna secca per quelli un pochino più tranquilli bastano sei round di cosa cinque ripetizioni di un tempo squat tenendo la cassa dell'acqua al petto tre secondi fase centrica tre secondi in isometria tre secondi concentrico un secondo su a gambe tese si riparte cinque volte finito le cinque rap sempre con la nostra cassa dell'acqua al petto strict press massimo numero di ripetizioni possibili senza fermarci appena ci fermiamo appoggiamo recupero 45 secondi e si riparte con il round successivo tabatone cosa facciamo sapete che quando c'è il tabatone non è mai il classico tabata quindi cosa facciamo due round classici da quattro minuti un minuto di recupero tra i due due round da otto minuti quindi faremo partire due canzoni consecutivamente il tabata tempo che smette parte una canzone avete un attimo di recupero ma lavoriamo otto minuti di fila tra i due di otto minuti sempre un minuto di recupero primo tabata cosa facciamo sempre con la nostra nostra cassa dell'acqua al petto come abbiamo fatto prima dei goblet squat quindi però stavolta in maniera dinamica ed è il mito elbo jump dopo vi farò vedere secondo tabata sempre con la nostra cassa dell'acqua facciamo dei thruster e dei bar peace over la nostra cassa dell'acqua terzo tabata quindi quello da otto minuti sono stavolta quattro esercizi che ripetiamo per otto minuti che le push up squat jump è il sit up con la nostra cassa dell'acqua e dei jack press sempre con la nostra cassa dell'acqua ultimo tabatone facciamo dei cosa scuota sempre con la nostra cassa dell'acqua al petto dei bar peace inversi quindi se abbiamo un tappetino utilizziamo dei twist e dei mezzi bar peace solo un movimento delle gambe che poi vediamo come sempre carichissimi si vola morenita sola a cada uno in su 1, 2, 3 5, 3, 2, 3 Casi, 2, 3 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.